Così, esatto, così, e messo più lì, con la mano sinistra un po' più alta, la mano resta un po' più alta e tu vai al buco. Ah, non va, vai. No, non mi piace. Ah, ok. Vai, vai. Bravo. Adesso, veloce su con i piedi, che tanto più, più su i piedi, più con le mani ti rimani. E dopo spostati verso sinistra, e dopo c'hai dei piedi buoni. Non ti preoccupare, che anche se vuoi qua non vuoi la faccia. Vai, 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 vai. Butta una mannata là sotto, la direzione, se c'è qualcosa di buono. Ecco, un'altra rovescia. No, manca di aia che fa scala. No, un'altra rovescia, dai. Dai, dai, dai. Dai, dai, dai. No, 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 sinistra. Nel buco dell'albussaccio. Esatto. Dai giù. Tasta, vai anche più, anche nello spigolo, anche nello spigolo. La su in alto. Dai, uomo. Bravissima. Bravissima. Lì è poca roba, eh, devi andare messo sinistra. Però, se già trovi una mano, esatto, bravo. Adesso si può sposti quei piedi e riesci già a rinviare. Adesso si può sposti verso sinistra quei piedi. Vai, 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 caccia a sinistra via, dì. Bravo, riesci già a rinviare. Eh beh, sì, ma lì è una rinviata un po' così, non è che ti riposi. Ah, lì uomo. Eh, rinvi, 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 bravo. Oh, oh, oh. Ma se prendi un po' a destra, a sinistra. Bene. Ho buscato, potevi rinviare, intanto. Poi da poco viene a destra. Bravo, bravo, bravo. Ti sto rompendo il caffè. Adesso. Cioè, è una mano buona sinistra. Dai, sì. Dai, dai. Ah, ti ho capito così, dì. Io quello non l'ho capito. Tutto qua a destra? Eh. Dai, buono. Infatti non l'ho fatto neanche io, eh. Dai, uomo. In continuità. Se ce la fai col brazzo sinistro vai su, c'è una zancca, però devi tenerla tutto a lato. Dopo vai lì. È più a destra possibile. Ok. Però, c'è, dirti che da sotto arrivi lì a prendere qua. Poi li si è riduti. Su quel dietro lì. La mano destra devi andare a prendere i laterali, no? I stazzoletti. Ci avevo messo un po' tutta la schiena. Vai. Lì, esattamente gli sfumi. Adesso altri due piedi e adesso la fai. C'è un po' tutta la schiena. E' un po' tutta la schiena. E' un po' tutta la schiena. E' un po' tutta la schiena. Sì, puoi te sono un po' tutta la schiena. Ah, ho preso in via. Lì, sopra non hai delle gran mani dopo, però hai dei buoni piedi per alzare. In equilibrio. Ci sono degli alternaterali, eh, più buone. C'è un po' tutta la schiena. C'è un po' tutta la schiena. Esatto. Quelle sono le mani di patria. Nico, voi la fate questa? Proviamo, sì. C'è un po' tutta la schiena. Cala pure. No, Mari. No, non puoi. Vai pure. Mari, fuori. No, 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 no. Dai, sei comodo. Io li faccio la nata. Mari, sei uomo. Dai, dai, dai. Dai, toro. Dai, che si come un mezzo dietro. Bravo. Ali, Ali. All'altra, credici a sinistra, no, vero? No. Dai, credici. Dai, uomo. Bravo. Bravo. Non è da vero, come facciamo una roba fondamentale. Non sei fare troppo mani, usa tanti piedi. Quei piedi è ottimo, per esempio. Per piedi e l'aria. Dai, poi. Se vai a sinistra, no. Bravo. Dai, Paolo. Dai, Paolo. Ale. Ali. Quella è la mia posizione, ma se vai a sinistra, con la zancalana, ti apposi più le mani là, a te non ci vuoi più, però è la sardena. Ah, no, no. Non è da l'altra parte. Assolutamente. Ah, no, non è da l'altra parte. Ok.